Tiptoy, il sapere prende vita! Sai dirmi cosa fanno i maiali nella fattoria? Puzzano! Come si dice ciao in ischimese? Allo cut! Chi è più rumoroso di un jet? La balenotte l'azzurra! Tiptoy, la rivoluzione del gioco interattivo! E' dura che si apra il sipario! Calma bambine, voi non avevate deciso di insegnare ai vostri fratellini come si fa a giocare d'amore e d'accordo? Bene! E' stata tutta colpa di tuo fratello! Emily Elefante è una mia amica! Ed è anche amica mia! E' mia! E' mia! E' mia! E' mia! E' mia!